Dove va il mondo? I cento personaggi più ricchi del mondo hanno ciascuno disponibilità maggiori rispetto al bilancio di interi stati. Ciascuno agisce da essere onnipotente che decide le sorti del mondo e cioè decide, lui per tutti noi, le innumerevoli guerre disseminate tra le popolazioni più misere della terra, guerre di cui nessuno parla e i paperoni le progettano sui loro tavoli d'oro. Decidono l'indispensabilità protratta all'infinito delle fonti fossili per produrre energia. Così sfidano sia i G20, i 20 governi più potenti della terra, sia la COP26, perché nel tiro alla fune tra fonti rinnovabili e carbone e petrolio da bruciare, tra economia circolare ed economia usa e getta, in questo tiro alla fune dalla parte prima c'è l'umanità intera, ma dall'altra parte ci sono loro cento e vincono sempre loro. Il pianeta e l'intera umanità hanno gli anni contati? A loro, ammirati tiranni, interessa solo l'adesso. Da loro dipende il movimento di 65 milioni di esseri umani che ogni anno lasciano patria e casa ed emigrano. Queste migrazioni bibliche non hanno cause soprannaturali. Sono le lobby delle armi, dei farmaci, delle deforestazioni, delle fonti inquinanti che causano il movimento. Peggio, lo spingono da dietro e lo bloccano davanti. Affidano ai governi il compito crudele di bloccare alla frontiera quei poveretti che loro stessi hanno scacciato da casa e affidano a noi, popoli occidentali depredatori, la ridicola convinzione di essere da loro depredati. L'avidità è criminale per definizione. Il neoliberismo che fa dell'avidità una virtù è una struttura di peccato, anzi la struttura di peccato per eccellenza è proprio questa avidità organizzata e non credo davvero si possa evitare l'obiezione di coscienza contro il neoliberismo per chi trova giusto il Vangelo di Gesù. Questi Moloch decidono lucidamente di aggravare ogni problematica che l'umanità vive. La pandemia? Una fortuna per i paperoni di tutto il mondo. Titolava così la stampa nell'aprile del 2021. L'umanità soffre e muore per la pandemia e loro contano i guadagni extra in centinaia di miliardi di dollari. In USA gli avidi decidono di sostenere la lobby delle armi e non bastano le continue stragi anche di giovani studenti per convincere il presidente, repubblicano o democratico che sia, a frenare questa lobby più forte di lui, l'uomo cosiddetto più potente del mondo. Quando i dollari si contano a miliardi non hanno più nessuna incidenza sulla vita di chi li arraffa, ma hanno un'incidenza gigantesca su chi ne è derubato, sui miliardi di persone impoverite. Che senso ha tenere sotto lo scacco del debito internazionale i paesi poveri. Tanto più che i conti li fanno sempre e solo i ricchi che si proclamano creditori per default. La vita prima del debito. L'intera umanità non regge l'urto di questi cento o mille superuomini. Non ha un leader ufficiale. Soffre anche per la guerra delle falsità che questa gente conduce sempre vittoriosamente. Tuttavia una speranza resiste. Moltissimi sembrano riconoscere un giovane Davide che si batte contro l'appesantito Golia. È Papa Francesco, l'uomo più giovane del mondo, armato solo della fionda del Vangelo di Gesù. E sembra incredibile, ma sono le masse giovanili quelle che si ritrovano con maggiore spontaneità sulla stessa lunghezza d'onda, giovani con giovani. Vuoi una traccia? Leggi i Vangeli di Gesù. Leggi l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Leggi i Vangeli di Gesù.